ok allora cominciamo o riprendiamo questo lavoro un po di merda a Grazie a tutti. 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 Ok, allora speravo che fosse l'ultimo secchio, invece no, ce ne sarà ancora uno, se non due. Adesso vediamo, intanto portiamo via questo. E qui il mucchio, il monte cacca aumenta. Non so se vedete, ma si sta ingrandendo parecchio. Ok, allora, adesso... Yeah, ma... No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.